L'Imbotu ha fatto un lavoro e continua a fare un lavoro importantissimo di servizio in accordo con le istituzioni sanitarie e amministrative e credo che la funzione di associazioni come la vostra sia talmente importante che non abbia nemmeno bisogno di essere raccontata ulteriormente. E' quello che fate ogni giorno al servizio degli altri che vi rende protagonisti, particolari e noi siamo orgogliosi di quello che siete e che fate.